Ma quanto è simpatica la signorina Giacomina! E come passa una pausa un bibliotecario se non con il suo più grande e fedele amico? Il fiore cantò benissimo e la festa durò tutta la notte. Una viene e l'altra va, si preparan per la festa Senti quella, senti questa e il mio bimbo dorme già. Mentre le foglie cominciavano ad appassire e a cadere sul terreno accadde qualcosa di magico. Il vento soffiò tutti i suoi semi. Tana Libera Libri